E' di 9 milioni e 237 mila euro la somma che il Comune di Matera dovrà dare all'Azienda di Gestione dei Rifiuti per le somme in più che sono state certificate dal Piano Economico Finanziario validato dall'Egrib per gli anni 2020-2021-2022. A rilevare la questione sulle colonne del Quotidiano del Sud edizione della Basilicata è Piero IV. Secondo quanto riportato, la questione potrebbe essere risolta in prima battuta ricercando le somme all'interno del bilancio comunale, ma solo, eventualmente, per scongiurare aumenti della Tari per il 2023. La questione necessita però di ulteriori approfondimenti. Non è detto, infatti, che possa risolversi con la ricerca della somma in bilancio, scongiurando così un aumento della tariffa ai cittadini. Un problema non solo tecnico, dato che la Tari è una tariffa autoliquidante da estinguere, cioè con i soldi dei contribuenti e non provenienti da altre risorse, come ad esempio l'economia ed il bilancio. La maggioranza in comune si riunirà in queste ore, mentre a metà settimana è previsto un dibattito nella Commissione Consiliare del bilancio, dove, ad animare il confronto, sarà soprattutto l'opposizione, fortemente preoccupata di un aumento della Tari. Grazie.